I piccoli amici del Gattile di Riva del Garda sono tornati a casa dopo un periodo trascorso a Trento per i lavori di ristrutturazione della sede. È stato quindi un momento per fare festa ed invitare tutti gli amici a fare visita ai gatti della città. Grande festa oggi al Gattile di Riva del Garda, siete tornati dopo i lavori realizzati dal Comune. Sì esatto, il Comune ha provveduto a fare un po' di lavori di ristrutturazione per la struttura del Gattile. In questo periodo i gatti sono stati trasferiti contro la loro volontà a Trento ed ora sono rientrati ufficialmente in struttura e quindi facciamo festa per ringraziare il Comune per i lavori fatti e per far capire a tutta la comunità di Valle che noi siamo rientrati e siamo attivi al 100% qua per salvaguardare gli animali, soprattutto i gatti in questo caso. Quali sono i numeri di entrata e uscita di questi nostri piccoli amici? Allora, noi immediatamente abbiamo una quarantina di gatti presenti in struttura e quarantina di gatti mensili diciamo. Durante l'anno arriviamo intorno ai 200 gatti che transitano dal Gattile e vanno in adozione. Tendenzialmente quasi tutti vanno in adozione tranne un piccolo gruppo che sono gli storici del Gattile che sono gatti diffidenti che non si fanno molto toccare e quindi restano qui. Quante persone collaborano al Gattile? Siamo 6 o 7 durante tutti i giorni di tutto l'anno, ci alterniamo durante la settimana, abbiamo un paio di volontari tutte le domeniche mattina, altre due comunque tutta la settimana da lunedì al venerdì e io ho presente anche sabato e domenica nonostante tutta la settimana. Oltre ai volontari che collaborano per curare i gatti ci sono anche tutta una serie di amici? Esatto, abbiamo due pagine Facebook dove ci seguono diverse persone e abbiamo dei punti di raccolta cibo, ad esempio nei negozi di animali qua vicino, l'isola dei tesori sia d'arco che a Riva del Garda e anche Zampettiamo qua vicino a Riva del Garda, collaborano raccogliendo il cibo per i gatti del Gattile e piano piano stiamo espondendo la cosa quindi adesso abbiamo anche il poli di arco che ha messo un cesto per noi, quindi ringraziamo tutti quelli che periodicamente, abitualmente danno una donazione in cibo per gli animali.